Ciao ragazzi e benvenuti in questo prossimo video, siamo qui in questo nuovo episodio di Just Goose 3 con altre missioni secondarie perchè ho scoperto questo insediamento che madonna mia è veramente un... se ci riusciamo, un bomb non lo so con quanto siamo forti da 1 a 1000 se ci riusciamo a distruggerlo è veramente molto grande quindi lo dico e sarà una missione un po' difficile quindi prendiamoci tutti i lanciarazzi che ci servono e subito via, vai via vai, subito via vai trasformatori andati unità elettrica centrale prima andata boom, quello è andato io ragazzi siamo entrati da un minuto e stiamo... cosa davvero stiamo scherzando? vuol dire che fino a lì è si è fine lì, vai le torri devono andare ok le torri di frazione sono andate quindi ci mancano altre cose un po' strane radar di tutto mamma mia qua dentro è la guerra qua dentro è la super guerra vai via così bomb bomb allora via così mamma mia ok vai via così via là vai così allora una di lì una di là vai via boom boom vai la distruzione mamma mia via subito non vi voglio vedere dovete stare zitti dovete morire mamma mia raga ma siamo proprio forti forti allora però voglio vedere un attimo una cosa a questi mod famosissimi cosa sono? ah sono delle cose che si sbloccano ok in pratica sarebbero dei potenziamenti però non ci sono le abilità pensavo che erano lo stile delle abilità ma non non si avvicinano per niente alle abilità allora via vai via vai sempre no 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 perché 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 vai vai stessi non sai vai vai così eh vogliamo andare via vai via vai via 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 subito via 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 c'è ok va fan così così uccidi quello uccidi quello uccidi lui uccidi lei tutti uccidi tutti vai così ok così boom aspetta aspetta però meno non utilizzare il lanciarazzi il rocket launcher oh benissimo così così allora 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 questo qui è stato distrutto qualche deve essere distrutto ancora non lo so qui dentro ci sono tanti di quegli uomini di diravello che veramente boh non si sa neanche boh non so neanche a Miami Beach ci sono così tante beach oh vai così ok vai sotto copertura vai così lì no non posso neanche immagini immaginarmi proprio non ci possiamo fare niente via allora quella parte lì è stata distrutta ora dobbiamo andare di qua ma non metto i sem vai attendi attendi ok via questi ci daranno un bel supporto antenna marabolica di là distrutta quest'altra lì cioè mamma mia ragazzi il ravello è veramente ricco cioè a parte ricco ma come diavolo ha fatto boom ma queste ce le abbiamo distrutte ah si da molto lontano le abbiamo distrutte quelle lì via via vai così mamma mia ragazzi torri idriche ed è sono rosse fuori poi ma vabbè dettagli oh mio dio raga questa è una città non è non si può oddio via così dove sono i peccini allora ci diamo a quest'idiota via così facciamo saltare in aria vai boom serbatoio serbatoio sferico andato vai fanculo non mi dire che si collega lì perché se si collega lì allora madonna santa che che bordello che dobbiamo fare ah quella è un'altra di questa città possiamo dire vai così via così meno cisterna e meno problemi sì sì sono d'accordo raga qui ci metteremo le ore c'è un intero episodio sprecato per questa battaglia infinita cioè ma io mi vado a mettere problemi guai vai vai così vai direttamente ok via perfetto vai così no non possiamo vai granate che ne armiamo tanto le nostre granate vai mamma mia che mira via così mamma mia ancora proprio lui io non muoio io non muoio io non ci muoio non avete capito che io non ci muoio mai mai nella vita vai via sensazione wow oh mio dio ok un'antenna è andata almeno questo lo sappiamo mamma mia ragazzi questo gioco è un orgasmo vai su su andiamo con le antenne andiamo con le antenne distruzioni 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 oh io no dobbiamo mettere altri sem volete dire no quella che che diavolo è quella barca della morte vai vai così vai così ci muoiono più velocemente così dai qui ti ci perdi cioè la testa se ne va a farsi forse in questa missione via così cioè se non era per questa mitraglia veramente non so come avrei fatto a fare questa missione non lo so veramente vai andiamo vai affrettiamoci oh vabbè dai abbiamo sfondato subito ok ora è ora di là vai così ah di qua pure distruggiamogli tutto distruggiamogli la vita distruggiamogliela non dobbiamo sapere più che significa la parola vita via altra granata altra esplosione via ecco qui vai altra granata altra esplosione boom vai così vai non ci pensare due volte non ci pensare due volte voglio vedere il fuoco mamma mia vai così vai così interruttori distrutti e voi andate insieme trasformatori che ne dite interruttori andati dinamite sempre portata di mano vai unità elettrica centrale distrutta bam no che bello armi a vista d'occhio vai così così esterne di carburante ne manca un'altra si vai sparagli benissimo un'altra pure andata andiamo via via così ma neanche il giubbotto antiproiettili di lion di chi era quella lion si via questo si che va bene via via non avete capito che non mi voglio proprio vedere non avete proprio capito via edshot boom vai vai esplosioni ok via via oh no 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 mamma mia raga io io faccio proprio i vermi nello stomaco quando vedo che sto per morire in questa missione veramente vai le kill le kill così ok ok vai ok benissimo vai le barche aspettano te rigo qual è la situazione perfetto il supporto ribelle vai mamma mia raga questa è proprio la super delle missioni questa è proprio la super missione per eccellenza via così boom mi state divertendo raga boom mio sì attenzione ce ne vuole un altro un altro ancora vai via non dobbiamo sprecare i nostri proiettili di RPG via 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 così dai altri due razzi non faranno altro che bene così 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 mi voglio boom esplodi boom esplodi boom esplodi ancora vai così caos boom quella fiammella vicino alla parola caos era orgasmante vai c'è raga c'è raga 13 minuti di distruzione totale vai qualcosa ce la siamo lasciata da dietro però eh non va bene non va per niente bene può darsi anche che nel prossimo episodio continueremo però sarà sicuramente minore il caos vai che apri il paracaduto con il che lo apri a fa vai via vai via vai via ora è lì che c'è avevo visto una cosa di là di qua ecco cosa avevo visto di qua va così ragazzi ok così così oh mio dio ragazzi ma quanto siamo pro quanto no aspettate dov'era allora ne ho viste altre ah ecco è l'ultima così boom eliminate tutte allora non vedo però altre come si chiamano quelle cose quei radar come li vogliamo chiamare i guardian ok allora dove sono quei radar vai così eccolo di un altro allora dobbiamo trovare altri trasformatori però ci manca ancora parecchia roba quindi come avevo detto ci vediamo nel prossimo episodio un abbraccio materniti idrootto ciao ragazzi vi voglio un mondo di bene un abbraccio materniti idrootto un abbraccio un abbraccio